Ciao a tutti, benvenuti al mio canale di cartomodellismo dinamico, io sono Issam e oggi vedremo come installare e configurare il Zodco Pilot che è un pilota automatico, abbiamo visto in dettaglio in questo video e che ci permette anche il ritorno a casa automatico con un flip di uno switch o eventualmente se dovessimo perdere il segnale andremo a configurare la radio per attivare in automatico il switch di ritorno a casa e con l'ausilio del GPS incluso nella scatola il nostro aereo tornerà a casa e inizierà a circolare in cerchio con un raggio di 100 metri iniziamo subito con la ricevente visto che il pilota automatico ci permette anche oltre al collegamento in PWM il collegamento in S-Bus che preferisco perché diminuiamo il numero dei cavi non solo, abbiamo anche una latenza minore con il segnale S-Bus quindi sono andato a cambiare il cavetto della ricevente FRSKY R9S e quindi la prima cosa che devo fare è inserire il cavetto nell'apposito pin S-Bus come potete notare sul copilot c'è scritto il segno meno più e il segnale quindi dobbiamo rispettarlo e inserisco il primo connettore servo che è della ricevente che andrà ad alimentare la ricevente ma anche prendere dalla ricevente gli ordini per quanto riguarda gli altri cavi abbiamo l'alettone, l'elevatore, il gas che prenderà l'alimentazione dall'ESC a 5V e alimenterà il nostro copilot che a sua volta passerà l'alimentazione anche alla ricevente. Poi abbiamo il timone e il canale ausiliaro che andremo a utilizzare per comandare i FLA quindi partendo dagli alettoni andremo a collegare i cavetti numero 2 per primo rispettando ovviamente la polarità quindi connetto in questo modo, poi il cavetto con l'etichetta 3 che comanderà l'elevatore dopodiché il cavetto che arriva dall'ESC sempre rispettando la polarità connetto il cavetto con l'etichetta 4 dove c'è scritto RAD che sta per RAD in inglese ovvero timone e per ultimo i flap sul canale ausiliario. A questo punto avevo già installato per comodità il biadesivo che arriva direttamente con il copilot e rispettando la freccia che è qua anche perché con questo pilota automatico non abbiamo la possibilità di cambiare direzione eventualmente se vogliamo cambiare la direzione nel software e quindi dobbiamo per forza mettere il pilota automatico con la direzione corretta andrò a installarlo col biadesivo in questa posizione la cosa più importante in questo stadio è che il copilot abbia la direzione in questo modo non deve essere diciamo inclinato a destra o sinistra e questo perché se installiamo storto il pilota automatico anche se l'aereo sta viaggiando dritto il pilota automatico essendo installato storto penserà che l'aereo sta viaggiando storto quindi mentre l'aereo è dritto lo correggerà e andrà storto a questo punto sfrutterò il foro che avevo fatto per far passare il cavo della telecamera del sistema DJI se non sai perché l'ho tolto da questo aereo puoi andare a vedere questo video ecco andremo a infilare il connettore dell'antenna GPS e inserire il connettore dove c'è scritto GPS sul copilot a questo punto con un po' di colla a caldo possiamo fissare l'antenna GPS e se non conoscete questa pistola di colla a caldo che è veramente fantastica perché senza filo a batteria ecco vi consiglio di prenderla perché vi cambia completamente la vita non dovete avere cavo eccetera eccetera ed è molto pratico però vi consiglio vivamente di spostare il più lontano possibile l'antenna GPS da tutta l'elettronica così da prendere meglio evitare interferenze quindi la sposteremo il più lontano possibile in questa posizione e qui non è importante la simmetria anche se è un pochino storta l'antenna GPS non è un problema perché all'interno non abbiamo una bussola e il sistema conta completamente sulle coordinate GPS quindi calcola un punto A e un punto B se vede che è un po' storto dal punto A al punto B nelle coordinate GPS lo corregge tutto il resto lo fa il giroscopio all'interno diciamo per gli spostamenti piccoli ci pensa il giroscopio all'interno del copilot metto un po' di colla a caldo direttamente sull'antenna un po' di colla a caldo anche qua che è meglio ok a questo punto posso premere e fissare l'antenna a questo punto possiamo collegare il telecomando al copilot e se volete potete lasciarlo volante solamente per impostarlo la prima volta o se volete potete anche fissarlo con un biadesivo come farò io e quindi mantenerlo sempre all'interno dell'aereo anche perché pesa veramente poco ed è comodo sempre averlo non solo magari nel futuro cambiate qualcosa nell'aereo cambia il baricentro cambia il peso perché mettete una batteria all'interno e perciò dovete cambiare un po' le impostazioni o il guadagno dei PID perciò potrebbe servire e per me questa cosa è fondamentale perché sono molto disordinato e quindi rischio di perderlo se non lo metto dentro bene a questo punto per quanto riguarda il pilota automatico abbiamo finito tutti i collegamenti e dobbiamo mettere la telecamera sfrutterò sempre gli stessi fori che avevo fatto per fissarla in questa posizione con una fascetta utilizzando sempre i biadesivi che arrivano con la telecamera o se avete una colla che supporta alte temperature potete anche mettere una colla bene però prima di fare questo dobbiamo pensare come alimentare la telecamera e siccome la telecamera ha la possibilità di alimentarsi da 7 volt fino a 28 volt quindi da due celle fino a 6 celle possiamo mettere questi due cavi in parallelo direttamente collegati alla batteria principale quindi taglio i cavi ma prima sarebbe meglio intrecciare i cavi per evitare le interferenze quindi una volta intrecciati i cavi li facciamo passare dal foro e iniziamo le operazioni di saldatura ecco se non avete un tagliacavi spella cavi questo è veramente utile vi consiglio di prenderne uno e costa anche poco ve lo lascio nella descrizione del video a questo punto prestagniamo come al solito tutto po di flussante anche qua e non dimentichiamo i termorestringenti vanno messi prima che ci dimentichiamo nei cavi una cosa molto importante prima di saldare e controllare la polarità perché se facciamo un errore e colleghiamo la batteria all'esca al contrario uscirà il fumo magico quindi adesso saldo questo dopo averlo prestagnato per bene ovviamente facciamo passare anche il cavo rosso all'interno del termorestringente perché poi dopo in fase successiva non possiamo farlo un po di flussante prestagno anche questo cavetto piccolino e adesso con l'ausilio di una pinzetta vado a saldare il cavetto piccolo al tutto facciamo la stessa cosa per il cavetto nero faccio passare il cavetto nero anche lui all'interno del termorestringente e una cosa se vedete che avete difficoltà a saldare vuol dire che dovete cambiare stagno o saldatore o tutte e due e vi consiglio vivamente se non l'avete fatto di vedere il video che compare in alto a destra su questo saldatore che sto utilizzando in questo momento o anche sul ts 80 che anche lui è veramente fantastico anzi forse ancora più pratico non solamente per chi fa modellismo ma anche per chi non fa modellismo a questo punto con un accendino ancora meglio con un phon come questo che vi lascio nella descrizione del video a basso costo andiamo a stringere i due termorestringenti usando il biadesivo in dotazione alla telecamera lo metto sotto e posiziono la telecamera col biadesivo e la tengo stretta con la fascetta ok sicuramente si potrebbe fare di meglio di così usando una colla ma comunque così è fissa non si muove non va da nessuna parte è un po ammortizzata anche con il biadesivo sotto ma direi che in questa fase va bene così perché facciamo un tempo sempre a incollarla adesso programmiamo insieme la radio creiamo un nuovo modello un aeroplano ci chiede se ha un motore e ci chiede su quale canale metterlo e sul canale 3 e confermiamo andiamo avanti ci chiede se gli alettoni sono connessi tutte e due su un solo canale o due canali differenti sono connessi tutte e due su un canale solo che è il canale numero 1 confermiamo andiamo avanti e ci chiede se ha anche i flap si ce li ha quindi dobbiamo dirgli se un solo canale o due canali si è un solo canale e lo mettiamo sul canale numero 6 perché i primi quattro canali ovviamente sono occupati dai controlli l'alettone l'elevatore il motore e anche il timone il quinto come indicato nel manuale di istruzioni deve essere per forza lo switch per cambiare modalità di volo e il sesto può essere gli alettoni che quando la nostra ricevente trasmette via s bus al flight controller il flight controller lo farà uscire sul canale ausiliario al quale abbiamo connesso i nostri flap quindi i flap li mettiamo sul canale numero 6 andiamo avanti qui chiede se ha i freni no non abbiamo i freni qui ci chiede la configurazione del nostro aereo se per esempio è un tutala o un aereo standard adesso è configurato come aereo standard perché ha un solo elevatore e ha un solo timone eventualmente possiamo utilizzare due elevatori e un timone o per esempio la configurazione in vite ma vi ricordo che bisogna comunque in ogni caso anche se avete un altro tipo di aereo continuare la configurazione in questo modo perché ci pensa tutto il nostro copilot quindi andiamo avanti e come potete notare abbiamo assegnato già tutti i canali il canale numero 3 e il motore il canale numero 1 gli alettoni i flap sul 6 il canale numero 4 il timone e il canale numero 2 l'elevatore clicco in via per confermare confermo adesso andiamo a configurare il nostro modello la prima cosa bisogna bindare la radio con la ricevente la seconda cosa che dobbiamo fare subito e gestire gli output ovvero invertire i canali che dovremmo inventire invertire eventualmente se non vanno bene per esempio dobbiamo muovere lo stick destro a destra quindi l'aereo deve virare a destra per virare a destra dovrebbe alzare l'alettone destro e abbassare l'alettone sinistro se vedete che il contrario dovete invertirlo da qui nel mio caso non è il contrario quindi non è un problema per quanto riguarda il canale 2 che l'elevatore se spostiamo lo stick destro indietro l'aereo dovrebbe alzare il muso e abbassare la coda per abbassare la coda deve alzare l'elevatore se non lo fa o fa il contrario allora bisogna invertirlo e nel mio caso ho dovuto invertirlo per quanto riguarda il timone se spostiamo lo stick sinistro a destra l'aereo deve virare a destra per virare a destra dovrebbe muovere il timone a destra quindi anche qua se c'è da invertire va invertito nel mio caso non è da invertire per quanto riguarda il canale 5 non l'abbiamo ancora assegnato lo dobbiamo assegnare a questo switch ecco ma nel frattempo andiamo a vedere il canale 6 il canale 6 riguarda i flap e qua ho dovuto invertirlo perché ho dovuto invertirlo perché in questa posizione si apriva e in questa si chiudeva e io voglio il contrario quindi l'ho invertito in più come potete notare ho messo il limite massimo al 90 per cento e questo perché i flap sforzano appena arrivano in fondo quindi l'ho messo al 90 così non sforzano per quanto riguarda il canale 6 l'ho assegnato questo switch che si chiama switch d invece il canale numero 5 che sono i modi di volo l'ho assegnato allo switch b assegnando il canale 5 dei modi di volo a questo switch ho notato che è nella posizione in giù era in modalità ritorno a casa invece così in mezzo era in modalità manuale invece così in alto era in modalità stabilizzata e siccome vorrei che sia stabilizzato così e così in modalità manuale e così in modalità ritorno a casa allora sono andato nel menu output e ho invertito il canale bene adesso dopo aver assegnato lo switch del ritorno a casa se utilizziamo lo switch l'aereo in automatico torna a casa però se dovessimo perdere il segnale non torna a casa e come facciamo a farlo dobbiamo andare nel menu fail safe gli diciamo che dobbiamo impostarlo customizzato clicco su set e la prima cosa che dobbiamo fare è impostare il canale 5 che sia in modalità di ritorno a casa quindi clicco sullo switch così in questo modo vedete che la linguetta si sposta a sinistra in posizione meno 100 tengo premuto e vedete che me lo mette a meno 100 così quando la ricevente non riceve più il segnale dice al flight controller di impostare il canale 5 a meno 100 come se questo switch fosse in questa posizione e così torna a casa per quanto riguarda il gas non lo dobbiamo mettere a meno 100 di solito il fail safe lo mettiamo a meno 100 spegne il motore però se spegne il motore non riesce a tornare a casa o magari non ci arriva dipende poi che altitudine è quindi va lasciato a zero come se lo stick fosse in mezzo per quanto riguarda il canale numero 6 che sono i flap io se dovesse andare via il segnale quindi entra in fail safe rallenterei un pochino l'aereo per consumare meno corrente quindi apro i flap e il motore in automatico rallenta e mantiene sempre la stessa altitudine con i flap aperti perciò imposto questo switch in modalità flap aperti a questo punto clicco una volta e poi tengo premuto e tengo premuto un'altra volta tengo premuto un'altra volta tengo premuto un'altra volta vedete che lo mette a meno 90 perché l'avevamo messo a meno 90 come limite massimo negli outputs un'altra cosa che vorrei che facesse l'aereo eventualmente se non c'è il segnale gps e va in fail safe perché non riesce a tornare a casa però al posto di viaggiare dritto vorrei che inclinasse un pochino se stesso quindi inizia a girare dove ha perso il segnale magari mentre sta girando ritorna il segnale o posso comunque cambiare la batteria se dovesse finire la batteria o c'è qualcosa che non va qualcuno mi trancia l'antenna mentre insomma qualsiasi evenienza l'aereo continua a girare nello stesso posto quindi sposto il mio stick un pochino a destra così ok vedete che segna 17 mettiamolo a 15 e vorrei simulare questo movimento che sarebbe timone e alettone tutte e due a destra così fa un giro orario sposto l'alettone un pochino a destra clicco il bottone vedete non fa meno 24 è troppo quindi facciamo anche questo qui 15 così l'aereo se dovesse perdere il segnale radio e non c'è neanche il segnale gps comunque continua a circolare finché uno dei due non torna e torna a casa o comunque io mi metto in posizione per prenderlo mentre ha spento il motore quindi sta perdendo quota e continua a scendere a chiocciola lentamente perché abbiamo aperto i flap ok una cosa molto importante non solamente in questo sistema di stabilizzazione ma in tutti i sistemi di stabilizzazione è che i trim non devono essere assolutamente attivi infatti come potete notare qua mentre sono in modalità stabilizzata o anche in modalità ritorno a casa i trim non sono attivi non funzionano e non si possono anche cliccare per sbaglio però se vado nella modalità manuale e qui che servono i trim perché senza trim non possiamo andare dritti con l'aereo allora come potete notare qua i trim si attivano disattivano e attivano se volete sapere come si fa questa cosa che è molto importante specialmente se volete passare dalla modalità manuale alla modalità stabilizzata o viceversa ecco andate a vedere questo video come al solito imposto sempre un interruttore che arma il motore dando un avviso sonoro non solo quando disattivo anche il motore un altro avviso sonoro questo si imposta nel menu funzioni speciali se volete sapere come si fa potete andare a vedere questo video e anche se non c'è proprio bisogno con questo aereo perché è molto dolce di impostare un dual rate e un expo io l'ho impostato lo stesso su questo switch a sinistra con tre valori differenti è sempre un expo a 30 per tutto e un 35 per cento sul timone e a seconda di come muovo lo switch diventa 75 per cento o 85 per cento o 100 per cento di dual rate questo mi servirà per passare l'aereo a un principiante uno degli abbonati che non ha dimestichezza con gli aerei così da diminuire la reazione dell'aereo quando è a 75 per cento e quando lo piloto io al 100 per cento posso avere tutta la sua performance a questo punto abbiamo finito la configurazione della radio e prima di andare avanti dobbiamo controllare la reazione del flight controller o il co pilot se è corretta o non è corretta come facciamo beh dobbiamo impostare la modalità di volo instabilizzata a questo punto dobbiamo immaginare una forza esterna che manda la coda in su e la coda deve reagire a questo mandando l'elevatore in su quindi se si muove in su l'elevatore va in su se si muove in giù va in giù per controbilanciare o resistere a questa forza lo stesso vale per gli alettoni se c'è una forza che la spinge in giù l'alettone si muoverà in giù per controbilanciare o resistere a questa forza e riportare in su l'ala lo stesso se una forza esterna porta in su l'ala come potete notare dovrebbe muoversi l'alettone in su e riportare in giù l'ala ok adesso sono stato fortunato e tutte le superfici di controllo funzionano bene ma cosa possiamo fare se dovesse andare male ovvero le superfici di controllo funzionano al contrario di quello che devono fare ecco dobbiamo agire su uno dei corrispettivi potenziometri l'alettone o l'elevatore dobbiamo immaginare che questo potenziometro sia tagliato in due la parte destra diciamo a una reazione contraria dalla parte sinistra per esempio il guadagno è impostato a una tacchetta verso la parte destra quindi ore una man mano che va due tre quattro e cinque aumenta il guadagno in una direzione se dovessimo invertire la reazione dell'aereo dovremmo metterla alle ore undici se vogliamo aumentare il guadagno con una reazione inversa a quella che abbiamo in questo momento dobbiamo aumentare verso le ore 9 o 7 eccetera eccetera lo stesso vale anche per gli alettoni le ultime due cose da fare prima del primo lancio sono la calibrazione della radio e con questa calibrazione il copilot imparerà la posizione e i livelli dei canali della nostra radio come si fa dobbiamo mettere il gas al minimo lasciamo lo stick destro in mezzo dobbiamo mettere il pilota automatico in modalità stabilizzata a questo punto premiamo e teniamo premuto il bottone set per tre secondi e lasciamo e vedremo a questo punto gli alettoni muoversi una volta che sono mossi vuol dire che il copilot ha memorizzato la posizione degli stick la seconda calibrazione invece che è molto importante è la calibrazione dell'accelerometro quello che dice che il copilot o l'aereo è a livello gli aerei come sappiamo non viaggiano esattamente diciamo paralleli alla terra ma leggermente con il muso in su se troppo in su stallano se troppo in giù comunque non riescono devono aumentare i giri motore tantissimo quindi a questo punto per diciamo adattare a questa situazione l'aereo dobbiamo alzare leggermente il muso non dobbiamo metterlo completamente parallelo alla terra e effettuare la calibrazione per fare ciò metto una batteria sotto la coda dell'aereo così da tirarlo in su un pochino abbiamo una leggera diciamo inclinazione in su tengo le ali perfettamente parallele alla terra e a questo punto vado con tutte e due gli stick in mezzo inizia a lampeggiare il copilot una volta che le due lucine smettono di lampeggiare abbiamo già fatto la calibrazione dell'accelerometro e adesso il nostro aereo può volare livellato e non dovrà perdere quota né diciamo salire col muso in alto se vedete un comportamento strano per esempio che l'aereo cerca di virare un pochino a destra poi si corregge dopo un po o per esempio viaggia un po storto questo vuol dire che bisogna rieffettuare la calibrazione dell'accelerometro per riportarlo o aggiustare il suo comportamento ok ormai il video è lungo ma in teoria questo pilota automatico è veramente semplice e non dovete impostare quasi niente tranne la radio controllare superfici di controllo che si comportano in maniera corretta potete andare a volare e siete sicuri che se dovessimo perdere il segnale ecco torna indietro sarà stabilizzato molto semplice anche per i principianti ecco io ho allungato il video spiegato delle cose in più eventualmente se uno di voi ha dei problemi può ritornare al video e vedere come sistemarli e il perché come al solito vi lascio il link assieme a un coupon sconto a questo pilota automatico che arriva anche con la telecamera e trasmittente per fpv a basso costo assieme a un coupon sconto nella descrizione del video nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel video della prova non vedo l'ora domani sarà soli